Si sono registrati attimi di apprensione nella serata di giovedì a Ponte Cagnano-Faiano, dove si è verificata una zuffa tra parenti. La liti è avvenuta in via Posidonia. Stando a quanto si apprende, sono coinvolti un uomo e i familiari dell'ex moglie. Lo racconta il mattino che mette in evidenza i fatti. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine e dalle parole, i litiganti sono passati e fatti con l'uso delle mani. L'uomo è stato preso a schiaffi e pugni ed è rimasto ferito. Il malcapitato è stato dapprima a soccorso dei sanitari del 118 e poi trasportato in ospedale, dove gli sono state medicate le ferite riportate. Per lui una prognosi di qualche giorno, quindi per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Nel frattempo continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine. Nelle ultime ore si sta cercando di ricostruire tutti i momenti dell'accaduto ed identificare i protagonisti della lite che ha provocato il ferimento di una persona.